Mythic Oil Milk Buongiorno a tutte ragazze, oggi parliamo di Mythic Oil Milk, ovvero un latte da applicare, vaporizzare sul nostro capello, lavato e tamponato, quindi un prodotto prepiega. Questo è ideale a tutti i tipi di capelli, quindi comunque lo possiamo utilizzare tutte. Contiene pappa reale, quindi comunque andrà a dare una nutrizione profonda al nostro capello. Noi lo dobbiamo vaporizzare in circa più o meno su una lunghezza come la mia, più o meno 4-5 vaporizzazioni su tutta la testa. Una volta che abbiamo vaporizzato, pettiniamo e questo prodotto ci aiuterà a far sì che il nostro capello si districhi facilmente, quindi evitiamo già piccole rotture date dal pettine quando incontrano i nostri nodi. Una volta pettinato andremo comunque al nostro brushing consueto. Questo è un prodotto che ci renderà il capello morbido e setoso, perché comunque vi dicevo, contiene pappa reale, quindi nutrizione profonda. Essendo comunque un capello molto nutrito, ovviamente avremo una luminosità, una lucentezza veramente esaltata, molto vivace. È un prodotto che ci aiuterà comunque, come vi dicevo, a rendere il capello morbido, setoso, esaltato, ma soprattutto sarà comunque un capello fortificato dalla radice alla punta, sarà proprio un capello più corposo, più sano. Quindi questo ovviamente lo vogliamo tutte. Quindi una volta finita la nostra piega, avremo un capello lucido, brillante e avremo un capello comunque molto morbido e sano dalla radice alla punta. Applicato più volte comunque nell'utilizzo, nel corso delle varie pieghe che ci faremo, vedremo comunque un miglioramento sia di lucentezza del capello, ma soprattutto di nutrizione del nostro capello. Provatelo e vedrete dei risultati spettacolari. Grazie.